Bentornati con le notizie di Videonews. Gli MB339Pan delle frecce tricolori sono decollati lo scorso 10 giugno in direzione Bagotville, in Quebec, prima tappa del tour che vedrà l'aeronautica militare, con la sua pattuglia acrobatica, volare tra Canada e Stati Uniti per tutta l'estate. All'intero tour prende parte anche un team di militari e velivoli da trasporto dell'aeronautica militare, che oltre al necessario supporto agli MB339 delle frecce tricolori garantiranno il sostegno logistico ed il trasporto del personale e dei materiali nelle diverse località di manifestazione. Un ritorno in Nord America molto atteso, oltre 30 anni. L'ultima esperienza oltroceano delle frecce tricolori risale infatti al Columbus 92, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America. Il 22 giugno le frecce tricolori esordiranno in Canada per prendere parte alle celebrazioni per il centesimo anniversario della Royal Canadian Air Force, l'occasione per rinnovare l'amicizia tra le due forze aeree, che condividono una storia centenaria fatta di tradizioni e valori comuni. L'attesissimo Nord America Tour 2024 della pattuglia acrobatica nazionale vedrà i dieci poni dell'aeronautica militare, così sono chiamati i piloti delle frecce tricolori, esibirsi fino alla fine di agosto, in diverse città del Canada e degli Stati Uniti, per portare il tricolore l'eccellenza italiana altroceano, attraverso un fitto programma di sorvoli e manifestazioni aeree. Il tour sarà un'occasione unica per migliaia di appassionati del mondo aeronautico altroceano per ammirare le capacità delle frecce tricolori, un'eccellenza suggellata anche dal Guinness World Record, come la pattuglia acrobatica militare che si esibisce con più velivoli, dieci in tutto. Oltre alle esibizioni acrobatiche, questa attività sarà anche un'importante opportunità per promuovere l'Italia e le sue eccellenze. L'aeronautica militare con le frecce tricolori, infatti, saranno ambasciatori italiani nel mondo per una stagione iconica, all'insegna del Made in Italy, una vetrina dove mostrare le nostre competenze militari aeronautiche e aerospaziali, in un'attività addestrativa che coinvolge tutte le capacità dell'aeronautica militare. È possibile seguire il tour sui canali social dell'aeronautica militare, per rimanere aggiornati sulle tappe e per vivere l'esperienza del tour attraverso il nostro racconto. Ancora decolli su Scramble per i caccia aerofighter della Task Force Air Force Wing che si trovano a Malbork, in Polonia. Sale così a 19 il numero di decolli immediati svolti dai velivoli italiani impegnati nella missione NATO di Enhanced Air Policing, a difesa del fianco est della NATO. Un impegno costante è quello degli uomini e delle donne della Task Force, che sono sempre pronti ad intervenire con la squadra d'allarme per decollare e identificare, come avvenuto sinora, i velivoli che avevano determinato lo Scramble. I piloti, dopo aver accertato il rispetto da parte degli aerei intercettati circa le regole dell'aviazione internazionale, dopo ogni Scramble, hanno fatto rientro in base. Videognews è terminato. L'appuntamento è, come sempre, alla prossima settimana. Buon weekend dall'aeronautica militare. Grazie. 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 Grazie a tutti